Un'altra domenica di grande sport a Sanremo, tra le manifestazioni in programma ce n'è una che si distingue anche per la sua particolarità, è un motoraduno, è la 28esima addirittura edizione della pistonata delle Alpi Maritime organizzata dal motoclub di Sanremo. Un appuntamento che è ormai un classico, una tradizione perché 28 edizioni non sono certamente pochi. Sì, effettivamente è una delle più vecchie pistonate d'Italia, è stata chiamata pistonata proprio per il discorso pistoni, tant'è che il trofeo che viene assegnato al gruppo più numeroso, non è una gara, quindi è semplicemente una passeggiata, viene premiato al gruppo più numeroso, viene consegnato un grosso pistone diesel sul quale ogni anno viene inciso il nome del gruppo vincitore. Tutti possono partecipare, basta avere la patente e un mezzo a motori e a due ruote. Esatto, la manifestazione è aperta a tutti con qualunque mezzo, scooter, moto d'epoca, moto fuoristrada eccetera. Abbiamo organizzato come sempre tre percorsi differenziati, uno appunto per moto da fuoristrada che girerà nel nostro entroterra piuttosto in alto, uno per moto stradali che arriverà fino a Colle San Bartolomeo e oltre e uno per moto d'epoca e scooter per ragazzini che sarà un po' più breve e andrà direttamente, passando da Badalucco, andrà direttamente ad Andagna dove è previsto l'arrivo. Abbiamo organizzato sia per le moto stradali che per le moto fuoristrada un punto di ristoro con aperitivo a Montegrosso Pianlatte con la collaborazione della Proloco locale. L'arrivo è previsto dopo cinque ore massimo dalla partenza, quindi dalle nove e mezza, quindi è previsto per le quattordici e trenta, ad Andagna dove anche lì con la Proloco locale abbiamo organizzato un ottimo pranzo, è abbondante, l'anno scorso è stato veramente buono, che sarà pannaggio di tutti coloro che saranno all'arrivo. Le esplozioni ci saranno a lungomare delle Nazioni domenica 4 dalle 7 alle 9 e la partenza verrà in gruppo alle nove e mezza. L'arrivo previsto, come dico, ad Andagna è intorno alle due e due e mezza, chi sarà un po' più veloce arriverà un po' prima, chi sarà più lento però insomma... Consigliamo a tutti di andare piano per godersi i panorami, anche perché le previsioni volgono al bello. Sì, sicuramente, particolarmente chi farà il giro alto con le moto da fuoristrada godrà di panorami fantastici perché il nostro terra è veramente bello. E lo sanno i tedeschi, che sono un gruppo sempre molto molto numeroso e molto affezionato e addirittura sono in città già da 7-10 giorni. Sì, sì, abbiamo tutti gli anni un gruppo che varia dai 200 alle 250 unità di partecipanti tedeschi, svizzeri e austriaci che tutti gli anni vengono giù apposta per la nostra... Si prenotano le ferie da uno all'altro per la nostra pistonata e sono già qui a Sanremo da una settimana buona direi, sì. C'è un altro appuntamento che è sempre organizzato dal Motoclub Sanremo in collaborazione e con la sponsorizzazione di Costa Ligure e si svolgerà domenica 2 dicembre. Sì, in effetti è un'iniziativa nuova questa, nuova per modo di dire perché l'abbiamo già fatta l'anno scorso, è stato un esperimento che ha avuto un ottimo successo tant'è che abbiamo avuto la partecipazione di campioni quali Gritti, Kaccia, Schmider e diversi altri, tutte con moto fuoristrada d'epoca di piccola cilindrata cioè 50, 80, c'era anche qualche 125, c'erano dei pezzi bellissimi, dei pezzi unici delle moto cicoslovacche, moto di 30-40 anni fa con piloti ovviamente di 30-40 anni fa. La manifestazione è una cosa veramente simpatica, si svolge praticamente partendo dallo stabilimento della Costa Ligure ad Arma di Taggia e si farà un giro turistico, anche perché le moto non consentono di fare cose particolari, nell'entrotera, lì sul Faudo per poi tornare lì dalla Costa Ligure ovvero è stato un buffet freddo, via.